Allora, siamo arrivati agli eventi, cominciamo dall'Alpecimbra. Sarà una lunga estate di eventi che ci porterà fino all'autunno, perché non è che con l'estate finisce tutto, ma poi arriva l'autunno e ve lo vorremmo raccontare, perché è un'altra stagione ricca di tante esperienze. L'estate è sinonimo di eventi sull'Alpecimbra, due appuntamenti con la Notte Bianca, 14 luglio e 14 di agosto. Cosa vuol dire la Notte Bianca? Esatto, la Notte Bianca, perché stiamo svegli fino a tarda notte, in realtà il centro di Foggaria si trasforma in un grande palcoscenico, dove si avvicendano spettacoli, esibizioni, cooking show, i nostri negozi saranno tutti aperti, quindi una grande festa di piazza che si proroga appunto dal primo pomeriggio fino a tarda sera. Poi a fine luglio Festival del Gioco è l'evento più atteso dai bambini, un'intera settimana dedicata alla fiaba dell'Alpecimbra e alla scoperta di quello che è il nostro territorio attraverso il gioco. Quest'anno il tema è il bosco e in particolare le grandi piante dell'Alpecimbra, il ricordo anche del nostro Avezzo del Princep che è caduto a novembre ma che ci ha insegnato proprio nel suo venir meno a prestare ancora più attenzione a questo grande patrimonio e quindi vorremmo proprio attraverso il Festival del Gioco avvicinare anche i nostri turisti, i nostri bambini a questa dimensione importante della montagna. 13 di agosto lo Specchio delle Stelle, un appuntamento che ritorna al Lago di Lavarone che sarà rinnovato, iniziamo il pomeriggio con degli eventi legati all'outdoor, quindi bike, trekking, ma inizieremo a parlare anche di inverno con le nostre scuole di sci e delle aree gioco per i bambini, lo schiuma party e poi dalle 18 musica live e lì aspettando il grande evento dello Specchio delle Stelle che sarà più o meno verso le 21 e 30, fine luglio recuperando il tempo, una manifestazione che vuole raccontare la storia in particolare di alcuni luoghi di Lavarone, Serrada Futurista di cui vi abbiamo già parlato in passato, ritorna sulla settimana di Ferragosto e quindi grandi eventi che cercano sempre di coniugare quella che sono la storia, le tradizioni del nostro territorio con aspetti più divertenti, anche su Luzerna avremo un susseguirsi di grandi appuntamenti tra cui la Marcia Cimbra, quindi attraverso una marcia andremo ad immergerci in quella che è la natura più vera proprio di Luzerna. Tutti gli eventi sono pubblicati sul sito alpecimbra.it, io consiglio a tutti gli ascoltatori di seguirci anche su Facebook, su Twitter e su Instagram perché quotidianamente vi diamo gli aggiornamenti, poi di tanto in tanto si inseriscono anche delle iniziative nuove, quindi sicuramente i nostri social sono aggiornatissimi e ovviamente per trascorrere una vacanza che sia veramente tale abbiamo pensato anche di abbinare a tutti questi eventi o alle varie tematiche delle vacanze una serie di proposte e di pacchetti che potete acquistare online. Quindi ci sono dei pacchetti e basta chiedere all'APT. O ancora meglio basta andare sul sito alpecimbra.it e andare nella sezione offerte e lì troverete già tutta una serie di proposte e tematiche acquistabili online. La nostra Anna da Vicenza ci scrive, salve sono sempre titubante per le vacanze in montagna perché il tempo è molto pizzarro, in agosto solitamente piovoso? Ma allora l'anno scorso non ha mai piovuto, poi chi viene in montagna deve considerare che uno degli aspetti che io trovo anche affascinanti è che di solito magari il pomeriggio un temporale lo fa, ma questo non significa che fa parte proprio del tempo normale dell'estate e sicuramente non si può ipotecare il tempo. L'offerta è talmente ricca che se per caso un pomeriggio dovesse piovere tra mostre e iniziative... Qualche minuto ancora a disposizione, velocissima. Allora sempre per quanto riguarda gli eventi Valsugana vi segnalo in particolare nel weekend 7-8 luglio la Levico Imperiale per chi ama il periodo della Belle Epoca, rivocazioni in costume per ricordare il momento in cui Levico Terme fu elevata a rango di città da parte dell'impatto di Francesco Giuseppe. 7-8 luglio. 7-8 luglio. Poi passiamo al 17 luglio con l'inizio del Blue Lakes Festival, abbiamo detto bandiera blu, riconosciuta ai laghi, per celebrare questo riconoscimento abbiamo questo festival musicale che presenterà il 17 luglio sul lago di Caldonato, Susan Vega, per cui abbiamo dei nomi molto molto importanti. Il 20 luglio sul lago di Levico abbiamo Sanana Maitreya che era conosciuto come Terence Perendarbi, quindi altro nome che ci farà sentire i suoi grandi successi. E il 26 invece sul lago delle Piazze, poco distante nella zona dell'altopiano di Pini e invece Dolce Nera. Avremo poi tutta l'estate fino al 2 settembre il Lago Rai di Incanto, questa rassegna di musica in acustico nella catena del Lago Rai. Il 4 agosto in particolare Eugenio Finardi. Vi invito a consultare il nostro sito visitoalsugana.it per conoscere tutte quelle che sono le date di questa rassegna. Anche noi aggiorniamo costantemente le manifestazioni, avendo un territorio molto grande, davvero possiamo offrire tantissimi eventi di natura diversa. E dei pacchetti molto interessanti. Ci sono anche le proposte, in particolare sul nostro sito trovate le informazioni sulla Valsugana Card. Se siete appassionati di attività, volete partecipare alle escursioni di trekking insieme a una guida, si diceva prima, accompagnato pure in bicicletta, piuttosto che visitare dei centri storici, fare delle degustazioni di vino in cantina oppure su una barca elettrica sul lago di Levico, allora vi invito a scoprire di più questa card che vi darà la possibilità di vedere tantissime attività incluse nella card oppure con una grande scontistica. Quindi questo è un valore aggiunto che vi permette di completare la vacanza nel nostro territorio. Che dire di più, di tutto e di più. Non vi resta che venire a questo punto a vedere se è vero quello che vi abbiamo raccontato. Dormite perché non fa tanto caldo, quindi uno dorme, l'ira di Dio, si riposa, viene liftato, come siete voi, siete belli liftati. Diciamo che durante il trekking è abitudine, dopo aver mangiato magari in rifugio, aver fatto una merenda, insomma dedicarsi una mezz'oretta a una sana pennichella al fresco. Perfetto, quindi si ringiovanisce con tutta questa bella attività. E poi insomma i prodotti montagna fanno anche bene alla salute tra l'altro. Grazie alle nostre ospiti, grazie a voi come sempre di aver partecipato con i messaggi, di aver seguito, scriveteci, poi noi le domande le giriamo. Comunque informatevi perché sui siti internet c'è tutto, soprattutto per quel che riguarda i pacchetti turistici. Vi invito a visitarli e scoprirli. Buon proseguimento. Grazie.